Buongiorno e bentrovati al salotto acquatico con Telemoro o Super Moro International? Moro e basta. Moro sta ormai, se voglio dire al salotto, è una presenza fissa, anche perché, voglio dire, i risultati, no? Tu sei l'allenatore... Sono una presenza fissa perché sono l'unico abitante del centro federale di Ostia. E poi dice, venite solo qui, non girate l'Italia. No, io dico, tu sei anche e soprattutto l'allenatore dell'anno. Beh, l'anno passato. Ma punti anche quest'anno. Sei come un po' la Juventus, che... Farai i quattro allenatori dell'anno consecutivi? No, impossibile. Perché? Colleghi molto bravi. No, però, insomma, i risultati sono quelli che contano, no? Un po' il Ferguson del nuovo italiano. Ti piace come abbinamento? Beh, sì, io comincio ad avere una certa età in confronto ai miei colleghi giovani, sì, sì, mi sento bene in questo ruolo. A proposito di giovani, stai buttando un occhio allo streaming, a film e ai ragazzotti terribili che sono in acqua in quel di Riccione in questi giorni? Sì, sono colpito da alcuni risultati, soprattutto dei giovanissimi e benvengano questi risultati. Chiaro che vedo però una situazione che è molto divaricata fra la velocità e il fondo. Ormai tutti tentano di nuotare poco, andare veloci e poi vediamo cosa succede dopo. Mentre nel fondo vedo pochi eletti che si impegnano ad allenarsi, perché il nuoto, sì, deve essere gioco, deve essere divertimento, ma bisogna anche impegnarsi a lavorare. Certo, ma c'è sempre questo problema che li abbiamo belli, fighi, veloci e poi magari li perdiamo per strada, quindi questa storia del gioco, del divertirsi vuol dire non spremere subito il limone ma farlo pezzettino dopo pezzettino? Beh, questo di solito a parole viene detto che io non alleno, alleno poco, ci divertiamo, andiamo a cena fuori insieme, tutti amici. Poi non è assolutamente vero, perché se si deve andare a vedere proprio i risultati, i risultati devono avere un fine, un fine al lavoro. Poi è chiaro, ci sarà qualcuno che ha madre natura così brava, però principalmente bisogna lavorare e chi nega che non lavora non ci credo. Senti, si può aumentare qui il tuo parco, il parco atletico è già bello consistente, ma penso che magari ci fai un ragionamento su qualche giovane che potrebbe venire ad integrare? Beh sì, stiamo facendo questo ragionamento, probabilmente domani se non ci sono impegni vado a fare un girariccione. Domani mercoledì? Domani mercoledì a vedere soprattutto la parte finale dei 1500 maschili. Però aspetto tutti nella vera vasca, la vasca da 50. La vasca da 50, quindi rimandiamo tutto a Settecolli o per le considerazioni o già gli assoluti sono un'etapa importante? Un'etapa importantissima sono gli assoluti e poi... Per avere una previsione mondiale, intendevo. No, la previsione mondiale ce l'abbiamo quando siamo a mondiali. Eh, eh, quindi come al solito ce la tireremo fino a Kazan in Russia. Senti, ma sai che lì vanno tutti quanti di vodka? Sì, a me non piace tanto, devo dire la verità. Vinelli? Preferisco il caviale, però non la posso. Eh, caviale, insomma, poi approfitteremo, vedremo se c'è un pescatore anche da quelle parti. Magari. Magari. Alla prossima con SwimViz. Grazie Amoro.